Ma è una legge molto attesa perché abbiamo tutti la consapevolezza che i dati dell'ENIT sono molto interessanti e cioè che il turismo enogastronomico sta crescendo ed è in continua, costante e progressiva crescita. Solo sul dato dei turisti stranieri l'ENIT ci comunica che dal 2012 al 2015 il fatturato dell'enogastronomia legata al turismo è cresciuto del 55%. Ma gli elementi salienti sono questi che le sagre di qualità, le sagre che avranno il marchio di sagra di qualità devono valorizzare il territorio, fra il prodotto che è l'oggetto della sagra ci deve essere un forte legame con il territorio, con l'idealità del territorio, con le tradizioni del territorio di dove si svolge la sagra. E i prodotti devono essere prodotti che prevalentemente vengono dalle marche, dal mercato locale, dal mercato marchigiano, prodotti della filiera corta, prodotti che vengono dall'agricoltura biologica, prodotti non geneticamente modificati, prodotti che sono le DOP, le IGP, anche le DECO. Sono prodotti sostanzialmente quei prodotti di qualità della nostra regione. Le sagre che avranno il riconoscimento da parte della regione potranno freggiarsi del logo, quindi di sagra di qualità riconosciuto dalla regione Marche che è stato approvato appunto dal Consiglio regionale e saranno poi promosse nel sito istituzionale del turismo della regione Marche e quindi avranno una visibilità a livello planetario, una visibilità mondiale perché il nostro sito ha visitatori quotidiani da tutto il mondo ma sono milioni di visitatori. Quindi c'è una visibilità grande. Naturalmente ci sarà un disciplinare, quel disciplinare dovrà essere rispettato e chi poi non lo rispetterà una volta avuto il riconoscimento sarà anche tolto ovviamente e gli verrà tolto il marchio. Quindi ci sarà tanta gente, tanti visitatori, tanti turisti che visiteranno i nostri borghi, i nostri centri storici proprio grazie anche a chi organizza le sagre.